Com'è la tua vita di coppia? Ehi tu, si dico a te, com'è la tua vita sessuale? Non va, eh? Lo sai che può essere segno di malattie come diabete, ipertensione, obesità, depressione? Non fare così, la soluzione c'è, è rapida ed efficace. Parlane con il tuo medico di fiducia, ti saprà consigliare per il meglio.